C'è Manuele oggi e quindi vedi ho rinunciato per lui, ho rinunciato il polo per me, ha tradito la moglie, solo per lui, hai portato il banco, questi stanno arbetenati, lo vedi quello? Oggi proprio, oggi non ci sento, quello lì non mai, Tim Olimpia al completo, ma pure qua facendo di scriverlo, l'amica c'è stata a pensare, potrebbe succedere la stessa, perché? Perché 900 metri, non ce la possa andare, ah beh certo, non ce la possa andare, lo lasciamo sotto, Però Rocca nepapappa a che al caffè ci arrivi c'è un problema Non ci torna! Ma siamo contratti una volta, siamo Air P lista! Oggi veramente, oggi fannoも che sache Они e cosa proprio, su 30 euro Guarda quanti visti oggi, da paura oh sto aspettando i due qua a piedi oh c'è una missione l'avevo visto che branco che temo dai soffriamo insieme con cirillo dai condividiamo si è messo a verbale che oggi si è mangiato e bevuto a spese di carmelo a spese di carmelo non è vero carmelo grazie carmelo è male grazie carmelo grazie ci ho fatto due ora si misti io mi ricordavo che pedalavate anche a piedi ci si va ma che sport è questo io mi ricordavo che ma questo andava in un bici una volta che sport è questo lo conosco grazie capitano grazie una nuova disciplina olimpica ma che è una nuova disciplina oh aggiornatemi io non la faccio ma come lo fa male per te io esatto ma da che scatami cazzo vieni ma a pia ma te faccio rimanere lì ma te faccio rimanere lì ma te faccio rimanere lì ma dopo lo facciamo in salita sto pezzo è un punto d'appoggio capito ma qua per esempio è un po largo qui perché si occhio che qua si riscivola ma la vista sta tecnica di ragnetto grazie